Siamo arrivati alla pagina sportiva in studio, lo saluto subito Massimo Profeta, ciao Massimo, benvenuto naturalmente per parlare ancora di calciomercato. Ci sono delle novità in casa Pescara e anche in casa Pineto? Sì, Pineto no, però Pescara sì, perché tanto si è riavvicinato Russini, abbiamo già scritto sul nostro sito www.reteotto.it, le stanno in uscita dal Padova, accetterà Pescara, in realtà ha manifestato già la volontà di lavorare con Zeman, di trasferirsi alla corte di Zeman, c'era già l'accordo ormai da settimane con il Padova, in uscita, ripetiamo, il club Veneto aveva soltanto un anno di contratto, il Padova ha cambiato sistema di gioco con Torrente dal 4-3 al 3-5-2, quindi per Russini ci sarebbe stato comunque poco spazio. Russini si prepara ad essere un nuovo giocatore della Pescara, contratto biennale per lui, finalmente Merola Paolo, si attende solo l'annuncio all'Empoli, soldi più il 30% sull'eventuale rivendita futura dell'attaccante Biancazzurro che firmerà un triennale. Poi ci sono altre notizie, ieri abbiamo dato la cessione, tu me lo dicevi dopo il telegiornale, ho letto di Palmiero che potrebbe andare a Lavellino, è andata proprio così perché intorno alle 15.30 abbiamo avuto questa notizia dall'ADS dell'Icarri, è stata una trattativa lampo in realtà perché Perinetti, neo responsabile dell'area tecnica dell'Avellino, proprio l'altro ieri sera ha telefonato dell'Icarri per parlare di questa possibilità e quindi c'è stata la cessione di Palmiero, 58 presenza e un gol con la maglia del filo al club Biancazzurro, il 10% sull'eventuale rivendita futura del centrocampista, classe 1996, a centrocampo Palmiero dovrebbe essere rimpiazzato dal giovanissimo Federico Casolari, anche questa è una notizia che abbiamo pubblicato sul nostro sito, se ne parlava in realtà già da diverso tempo, però il Pescara sta stringendo i tempi, un classe 2003, capitano della primavera del Sassuolo, giocatore breviglino, tecnico, un elemento di prospettiva. Andrà a fare la coppia, diciamo così, in questa parte del campo con Niccolò Squizzato, che è un altro play mezzala, che è stato prelevato a titolo definitivo dall'Inter. Vice Pizzari, martedì scorso abbiamo già parlato di questa notizia che è un po' gelato, tra virgolette, i dirigenti Biancazzurri, il no di Massolo, che si prepara a vestire la maglia della Vicenza nell'ambito dell'operazione dei plans, ce ne abbiamo già parlato con Dovizia dei particolari, il protagonista del Mondiale Under 20, l'ex Milan di proprietà del Vicenza, che sarà ceduto al Palermo. Valutazioni in corso, come vice Pizzari, su Giuseppe Ciocci, che reduce un intervento chirurgico al ginocchio, ampiamente superato, perché insomma si è ripreso, è tornato a giocare, è tornato abile, per così dire, all'inizio di aprile, con la maglia del Cagliari, anche se non ha mai giocato, è stato il terzo portiere, il secondo Resti, ex Biancazzurro, il primo invece Radunovic, però ecco ci sono le valutazioni in corso da parte dello staff tecnico, da parte di Zeman, è un portiere funzionale proprio al modo di intendere il calcio del tecnico Boemo, però vedremo che cosa succederà. È un classe 2002 di proprietà del Cagliari, due anni fa ha giocato 30 partite nell'Olbia. Le altre notizie dell'Icarri in pressing sulla mezzala della vibonese De Marco, Antonio De Marco, ne abbiamo già parlato nei giorni scorsi, classe 2004, un prospetto molto interessante, 26 presenze e 4 gol nel campionato di Serie D, la vibonese lo scorso anno era allenata da Giacomo Modica, è stato proprio Giacomo Modica a consigliarlo a Zeman, del resto Modica è stato giocatore, ma anche collaboratore tecnico dell'allenatore Boemo. La novità, vi faccio vedere una foto, la novità eccola qui, si tratta di un Italo ganese, si chiama Delis Manu, questo ragazzo è un 2003, non ha ancora compiuto 20 anni, 31 presenze e 4 gol con la maglia del Matera, presto sarà tesserato dal Pescara, si parla già della serata di oggi, Delicari lo stava seguendo con Bocchetti, Bocchetti ha spesso seguito il campionato di Serie D lo scorso anno, insomma questo è un giocatore di struttura, un giocatore che si inserisce molto bene, è un prospetto, è un 2003, ripetiamo, 31 presenze e 3 gol con la maglia del Matera in Serie D, due anni fa ha giocato nella Primavera 2 del Brescia, sarà dunque un Pescara molto giovane, più giovane Paolo rispetto alla Rosa dello scorso anno, l'obiettivo è quello di patrimonializzare il più possibile, se consideriamo Squizzato classe 2002, Pierno classe 2001, Tuno 2001, Masala 2004 svincolato dal Cagliari, insomma è chiaro che la sintesi è proprio questa, Pescara sarà una Rosa molto più giovane rispetto a quella dello scorso anno, infine la cessione di Chiarella al Catania, ma non andrà al Catania solo Chiarella, anche Bocic con il Pescara che manterrà il 50% sull'eventuale rivendita futura di questi due attaccanti molto giovani. Per quanto riguarda il Pineto, vi posso dare la conferma della trattativa che sta per essere ratificata, Nicolò Evangelisti, che lo scorso anno ha giocato nel Taranto, 34 presenze, Scuola Roma, arriverà in prestito al Pineto, in prestito secco, dall'Empoli, che è proprietario del suo quartellino. Nel pomeriggio alle 16.30 ci sarà la presentazione perché comincerà con il raduno la nuova stagione del Pineto, quella storica che ha portato appunto il Pineto al primo campionato di Serie C della sua storia, appunto con la conferenza stampa alla quale parteciperanno il tecnico Daniele Amaolo, il neodirettore sportivo Marcello Di Giuseppe e naturalmente il padrone di casa, il presidente Silvio Brocco. Grazie, grazie Massimo Profeta, e naturalmente nel corso della seconda edizione alle 19.30 avremo anche un servizio proprio sul Pineto.